Sanremo a Loredana Bertè il premio della critica realizzato da Michele Affidato. È stata la cantautrice Loredana Bertè a vincere il premio della critica, intitolato proprio alla Dorata Sorella, nel corso della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il brano pazza ha conquistato le radio, il pubblico e anche il premio della critica, raccogliendo 54 preferenze da parte dei giornalisti accreditati. Dietro un ampio margine, i brani di Fiorella Mannoia, che ha raccolto 16 voti, e di Diodato, 15. Il premio della critica Mia Martini inizialmente era nato solo come premio della critica del Festival della Canzone Italiana, ideato nel 1982 dai giornalisti Gio Alaimo, Cristina Berretta e Santo Strati. Nasce come riconoscimento informale, assegnato dalla stampa specializzata, in sala alla canzone e all'interprete che riscuotesse un giudizio positivo, di qualità per addetti ai lavori. Dal 1983 venne istituzionalizzato, trasformandoli in uno dei premi conferiti nel corso del Festival, e dal 1996 in poi il premio è stato poi intitolato «A Mia Martini, morta l'anno precedente». Questo omaggio venne pensato proprio perché la grande Mimi era stata più volte insegnita dal riconoscimento ed inoltre era stata la prima in assoluto a ricevere questo premio. Un'emozionatissima Loredana Berthea ha dunque ricevuto la scultura ideata e creata da Michele Affidato, un altro calabrese che da anni realizza questo ambito di riconoscimento. Il premio consiste in una scultura galvanizzata in oro e argento ed è composta da un leone che si appoggia a una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori in argento dove sono state incastonate pietre di topazzi azzurri. La Berthea ha dedicato proprio alla sorella e a tutte le donne alle quali è rivolto il brano questa vittoria. Un cerchio che si chiude ed una piccola rivincita personale, carica di significato per un artista e un brano che racconta in chiave rock la libertà di essere se stessi nel bene e nel male. Ma il maestro orafo Michele Affidato, che da 14 anni crea i premi speciali del festival, non realizza solo il premio della critica Mia Martini, ma tanti altri che vengono assegnati ai grandi artisti ed interpreti del festival della canzone italiana. Ho sempre sperato, commenta Michele Affidato, che il premio della critica in qualche edizione del festival lo potesse vincere Loredana Berthea, premio che nelle scorse edizioni aveva solo sfiorato e tanto desiderato. Finalmente è arrivato ed è stato bello vedere la Berthea che durante la consegna, con tanta gioia, ha detto questo premio mi è sempre sembrato irraggiungibile. Mimi l'abbiamo portato a casa.